Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, a Villino. Ridere con Peppino ho detto tutto, o suonno, taxi a due piazze e due mariti per un bebè. Un bel regalo per Natale. Sì, è un bel regalo, sono quattro spettacoli al prezzo stacciatissimo, 25 euro, soprattutto per avvicinare i giovani al teatro. È un regalo che si può fare sotto l'albero, sono spettacoli comicissimi, tutto da divertirsi insomma. E vi aspettiamo dal primo dicembre al 6 gennaio con Natale fatti un regalo al Teatro d'Europa. Vogliamo dire qualcosa sul cartellone, su questi quattro eventi? Sì, sono quattro eventi molto divertenti. Il primo è appunto Ridere con Peppino ho detto tutto, sono due atti unici di Peppino De Filippo, o suonno di Paolo Capozzo con il Teatro 99 Posti, visto che abbiamo realizzato un consorzio che si chiama il Consorzio Teatro Irpino, e quindi una stretta collaborazione con il 99 Posti, e poi Taxi a due piazze, uno spettacolo che non ha bisogno di presentazione, molto divertente direi Cunei, e due mariti per un bebè con Rosario Verde e Marco Lanzuise. Mettiti nei panni degli indecisi, no? Come li fai a convincere che devono venire sotto Natale al Teatro d'Europa? Devono venire con tutta la famiglia, perché devono divertirsi innanzitutto, è un periodo di divertimento a Natale, stanno al caldo, vedono un bello spettacolo dal vivo, che è il teatro, e si divertono tutti quanti insieme.